Ecco, quello è il mondo dove in qualche modo sono... Altro spaccio, altre persone finite in manette. Si è conclusa nella giornata di ieri l'operazione denominata Pitbull dal soprannome del principale indagato che ha portato le forze dell'ordine a sgominare una banda che riforniva spacciatori al minuto di cocaina a Fossombrone e lungo la valle del Metauro. Dopo mesi di indagini della compagnia di Fano in collaborazione con i militari della stazione di Fano, Fossombrone e Colle al Metauro è finito in carcere su disposizione del GIP Vito Savino un 24enne di Rosciano, ritenuto grossista della cocaina e conosciuto appunto col soprannome di Pitbull. Già noto alle forze dell'ordine, il 24enne era disoccupato ma aveva un tenore di vita fatto di auto di lusso, vestiti firmati, palestre e ristoranti stellari. Sono finiti agli arresti domiciliari invece un trentenne di Cartoceto disoccupato e con precedenti penali e un cameriere ventottenne di Viserba di Rimi. Inoltre sono stati denunciati sia due fratelli gemelli sui 25 anni accusati di lavorare come pusher a Fano sia altre due persone che devono rispondere di estorsione nei confronti di un piccolo spacciatore di Fossombrone indebitato con Pitbull. Infatti il giovane si riforniva dal grossista con il quale aveva maturato un debito di diverse migliaia di euro e che non era riuscito a saldare. Sempre più pressato dal capo del sudalizio si era trasferito nel nord Italia per sfuggire all'estorsore. Rientrato a Fossombrone l'agosto scorso era stato attirato in una trappola attesa lì da un amico d'infanzia che lo aveva convinto ad un incontro chiarificatore con il grossista. Ad attenderlo però, oltre all'estorsore, c'erano anche i suoi gregari che lo hanno aggredito fisicamente minacciandolo di morte con una pistola. La sua vita era in pericolo e per questo si è rivolto ai carabinieri di Fano che hanno avviato le indagini sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica di Urbino, Irene Lilliu. L'estorsore principale, dopo averlo gravemente minacciato, ha ottenuto la promessa da parte della vittima che gli avrebbe restituito questo debito a stretto giro. Però questo non è avvenuto perché fortunatamente la parte offesa si è resa conto della gravità della minaccia e quindi del rischio che aveva subito anche perché era a conoscenza dell'intole particolarmente violenta e del particolare aggressore e anche dei suoi gregari perché avevano condiviso questa filosofia di estrema destra facendo parte negli anni pregressi di un gruppo di schinedde che era attivo qui nella provincia. I carabinieri avevano identificato il grossista come fornitore principale di numerosi pusher. Inoltre, nel novembre scorso, i due fratelli denunciati erano stati fermati dai militari a Lido di Fano che avevano intercettato una partita di droga. Infatti, poi, erano stati trovati in possesso di un etto di cocaina purissima e dell'occorrente per il taglio e la confezione delle dosi. I gregari, invece, erano stati identificati come autori delle minacce al pusher. L'ultimo arresto è stato eseguito ieri? Allora, l'ultimo arresto è stato eseguito ieri perché una delle tre persone raggiunte da misura nel corso della prima esecuzione si è sottratta volontariamente all'esecuzione della misura rendendosi reperibile per oltre una settimana e anche con attività tecniche. Questa ricerca si è conclusa ieri quando nel centro storico di Rimino l'abbiamo individuato. In tutta la fase esecutiva dell'operazione sono stati impiegati 23 carabinieri supportati da unità cinofile antidroga e anti-esplosivo del nucleo di Pesaro e sono state eseguite delle perquisizioni che hanno permesso di recuperare un revolver, numerose armi bianchi, manette, tirapugni, 1500 euro in contanti, un orologio Rolex, telefonini e sim card intestate ad asiatici inesistenti e utilizzate per il traffico illecito di droga.